I carabinieri di pesce hanno arrestato una cittadina nigeriana di 32 anni colpita da ordine di carcerazione emesso dalla procura di Firenze. La donna deve scontare la condanna di 8 anni e 8 mesi di reclusione per reati di tratta di persone e favoreggiamento della prostituzione commessi nel comune di Monte Catini Terme nel 2016 nei confronti di alcune connazionali. L'arrestata è stata rintracciata nella sua abitazione di Uzzano dagli stessi carabinieri e condotta nel carcere di Sollicciano dove spierà la pena. Un altro arresto riguarda un uomo di 36 anni domiciliato a pesce colpito da un ordine di carcerazione in quanto deve spiare la pena di un anno e due mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare a seguito di condanna definitiva emessa dal Tribunale di Pistoia. Il processo trae origine dalle indagini condotte dai carabinieri del comando stazione di pesce grazie alle quali è stato individuato come responsabile di due furti commessi all'interno di un supermercato della frazione pesciatina di Ponte Alabate dove aveva rubato varie bottiglie di superalcolici ed alimenti costosi non di prima necessità per un valore complessivo di circa 400 euro. E' sempre i carabinieri ma questa volta del nucleo operativo radiomobile di Montecatini hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica per i minorenni di Firenze due stranieri di 17 anni residenti rispettivamente a Pieve Anievole e Montecatini Terme per il reato di furto aggravato in concorso. I due minorenni nella nottata dell'11 gennaio scorso sono stati rintracciati nei pressi della stazione ferroviaria di Montecatini Centro mentre si trovavano a bordo di un ciclomotore rubato poco prima in Piazza Italia e di proprietà di una donna di Pistoia.